Verità e prevenzione sono le parole chiave dell'associazione Dico No alla Droga che nel corso del fine settimana ha sensibilizzato i cittadini della BAT sui pericoli legati alle sostanze stupefacenti. I volontari della sezione regionale hanno svolto l'attività negli esercizi commerciali di Barletta e San Ferdinando, distribuendo opuscoli informativi e dialogando con lo staff dei locali. Il progetto dell'associazione nasce in risposta al crescente spaccio e abuso di droga nelle zone nevralgiche della provincia, un pericolo che può sfociare in atti di violenza, in particolare tra i più giovani. Le attività commerciali coinvolte nell'iniziativa hanno partecipato attivamente, esponendo a loro volta gli opuscoli e dimostrando apprezzamento per il progetto. Quello delle attività commerciali è l'ultimo evento di Dico No alla Droga che sta preparando un calendario di attività volte a sensibilizzare anche i ragazzi all'interno delle scuole e degli enti sportivi, un lavoro che andrà fatto in collaborazione con le forze dell'ordine che potranno contare sull'aiuto dei volontari nella lotta alle sostanze stupefacenti.